Ciao ragazzi, come state? Benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Sebi, oggi facciamo una nuova recensione portando un nuovo personaggio, che è il morto. Devo essere sincero con voi, ci ho pensato due giorni, fra ieri mattina e oggi, diciamo, perché ero sinceramente in dubbio se portarvi questo personaggio, perché faccio una piccola premessa. Quando ho aperto il canale, io ho selezionato una serie di titoli, una serie di personaggi che per me rasendano l'eccellenza. Quindi se andate a vedere nelle informazioni sul mio canale, trovate tutta una serie di nomi di cui io man mano vi porterò le recensioni sul mio canale. Perché ho fatto questo? Perché io voglio, nelle mie recensioni, parlare sempre bene dei fumetti. So che magari può andare di moda, criticare e magari fare anche più visualizzazioni. Non è questo qua il mio interesse. Io voglio parlare bene dei fumetti, voglio parlare bene dei personaggi che mi piacciono. E quindi non mi sentirete mai parlare di un fumetto che non mi è piaciuto. Se non mi è piaciuto, io non lo porto sul canale. D'accordo? Perché non voglio influenzare nessuno, magari con il mio giudizio, e quindi scoraggiare l'acquisto magari di una nuova uscita, di un'uscita passata e quindi non mi sentirete mai parlare male di un fumetto. Finita questa premessa, perché ho pensato così tanto se portare il morto o no? Ieri mattina ho ascoltato la recensione di Roberto, che ha il canale Okusai Barra, che io seguo da diversi anni, e parlava appunto della recensione del morto numero 47, che è uscito proprio fresco fresco, a meno nella mia dico, è uscito fresco fresco ieri. Sentendolo parlare, sì, diceva che comunque, tra l'altro io Roberto lo ringrazio perché è stato molto gentile nei mesi scorsi, fra fine di dicembre e inizio gennaio, mi ha dedicato addirittura un video su uno dei miei libri che ho scritto. Io glielo ho proposto a lui, lui molto gentilmente, in mezzo a tutti i combiti che aveva naturalmente da fare perché è un professore di italiano e quindi ha avuto anche il tempo di leggere il mio romanzo e addirittura mi ha dedicato una recensione sul suo canale. E quindi io ancora non so se vedrà questo video, ma io comunque lo ringrazio e lo ringrazierò sempre, perché veramente mi ha fatto molto piacere, non mi aspettavo, io non gli avevo chiesto di fare la recensione, l'ha fatta lui di suo cuore. E quindi il minimo che posso fare io è ringraziarlo. Allora ragazzi, lui parlava di questo fumetto, naturalmente non si addentrava nella trama perché spiegare questo fumetto è molto difficile. Perché è difficile? Perché ragazzi questo è un fumetto che è uscito nel 2010, nel maggio 2010, sono passati undici anni ed è un fumetto che ha una sua continuity. Cioè parte al numero uno, la storia è il numero 47 e siamo ancora nel bel mezzo della vicenda. E come si suol dire, una fiction televisiva, una serie, come per esempio deve essere quella di distretto di pulizia o della piovra, insomma fate voi un qualsiasi esempio calzapennello, in cui c'è praticamente una continuity. Ragazzi, questo fumetto è edito da una casa editrice che si chiama Minir, credo che si trovi dalle parti di Monza, a meno stando a quello che c'è scritto qui nelle note qua finali. È gestito, è un personaggio, questo qua del morto, creato da Ruvo Giovacca che insieme, credo, a una sua combriccola di amici, si è riuscito su a far pubblicare questo fumetto che si chiama Il Morto. Il direttore responsabile, qui vedo scritto, Paolo Telloli, il capo redattore è lo stesso Ruvo Giovacca, poi c'è l'art director che è ermete liberato. Tra l'altro ragazzi, tutti questi coautori, l'autore stesso, hanno tutti nomi molto particolari. Sembrebbero addirittura dei nomi d'arte. Per esempio, in questo primo numero i disegni sono di studio Telloli. Ragazzi, studio è un nome che per me mi risultano, vabbè, Ruvo anche, però voglio dire Ruvo Giovacca, a parte che è molto musicale come nome. Devo dire che comunque sembrano, ho visto anche qualche foto in internet, sembrano avere una bella combriccola di appassionati di fumetti che forse, anzi sicuramente, sono riusciti a realizzare il loro sogno portando un personaggio di loro invenzione in edicola. Il prezzo naturalmente da quando è uscito, il numero 1 del 2010 era sulle 2 euro, oggi siamo arrivati intorno ai 3,20 euro, ma ci sta. La qualità è notevolmente migliorata. Quindi ragazzi, io anche per questo motivo ho deciso di portare questo fumetto che ha tanti difetti, d'accordo? Non è, ripeto, per me non raggiunge ancora l'eccellenza nell'ambito diciamo fumettistico letterario, però devo dire che in tutti questi anni, in undici anni, la qualità è migliorata. È migliorata a livello delle storie, è migliorata come i disegni che inizialmente erano un po' rudimentali senza il chiaroscuro, ora magari parlando di questo primo numero io ve li farò anche vedere, però la qualità è andata sempre più migliorando. È migliorata anche la copertina esterna, era un po' più rigida, oggi è diventata più flessibile e morbida, come quella per esempio di Diabolic. Il formato, infatti ve lo faccio vedere, è simile in tutto e per tutto a quello che può essere il Diabolic. Si assomiglia anche un pochino all'Alan Ford, d'accordo? Perché la serie, diciamo, il formato è sempre quello Pocket, però ragazzi, ricalca in tutto e per tutto un Diabolic. Il personaggio, che assomiglia, diciamo, sia a Diabolic, per lo meno per questa sorta di calzamaglia che indossa, sia al più famoso Criminal, personaggio naturalmente sempre creato da Max Bunger alias Luciano Secchi, ma devo dire che loro stessi, nella parte finale del primo numero, fanno una sorta di escursus sulla simbologia del teschio e giustamente, ragazzi, nominano tutti ciò. Innanzitutto parlano un pochino del teschio in generale, perché naturalmente è un simbolo utilizzato fin dall'antichità come segno di pericolo o di minaccia. Poi ci racconta anche, per esempio, che in Messico c'è una festa particolare che si chiama Dia de los Muertos, in cui è una sorta di festa, di festa popolare in cui indossano delle maschere o mettono delle tute come a simboleggiare proprio questi teschi. Tra l'altro questa festa l'abbiamo vista anche in qualche episodio di Mister No, io sinceramente l'ho incontrata anche in un'avventura di Sass, che poi vi porterò le recensioni sul canale, quindi il principe delle spie, anche lui in Messico si cimenta con questa festa che è abbastanza famosa. Ma, come vi dicevo, fanno un rapido escursus su tutti quelli che, insomma, hanno indossato in qualche modo il teschio, a cominciare da Phantom, a passare poi per Tex, dove addirittura una storia che io qua prendo, naturalmente, nei numeri 41 a 42, Tex stesso si traveste da uomo della morte, potete vederlo anche qui. Poi si passa per un altro personaggio come Phantax, poi risoprannominato Phantasm, naturalmente il nostro Criminal, che ha una tuta molto simile, però lui è sul giallo, come vedete, giallo e ossa fatte in nero, mentre il personaggio qui del morto ha una tuta nera e poi le ossa, riportate in bianco. E quindi il nostro Criminal e, infine, un altro personaggio che si chiama Killing. Ragazzi, scusate, ma io questo qui proprio non l'ho mai sentito nominare. Era una sorta di fotoromanzo, addirittura, che usciva. Vabbè, comunque, la storia è abbastanza lunga su questi uomini mascherati. C'entra qualcosa con Diabolic e c'entra qualcosa con Criminal? No, ragazzi, assolutamente no. Con Diabolic? No, perché il protagonista non è un ladro. Non c'entra niente neanche con Criminal. Lui, Criminal, in realtà era un criminale, per una serie di vicissitudine, poi diventa questo criminale spietato. Il nostro morto, invece, è una persona assolutamente normale. È una persona che ha perso la memoria. Anzi, poi io voglio andare veramente con ordine e raccontarvi tutto da dove ho iniziato. Perché, ritorno un'altra volta, perché io vi parlo oggi del numero 1 e non del numero 47 che è uscito? Un po' per la continuity che vi ho già detto. Ma perché vedo che l'interesse nei confronti del morto, ultimamente, poi a livello di YouTube, ma anche a livello, diciamo, di recensioni in internet, su internet, c'è un, secondo me, un interesse sempre più crescente nei confronti di questo personaggio. Molti non hanno letto le storie del passato, perché magari inizialmente usciva mensilmente, poi insomma si sono assestati sull'uscita bimestrale. Quindi sono usciti 47 numeri, ragazzi, in 11 anni. Quindi fatevi un po' i conti. Voi, che storia un pochino ha avuto le pubblicazioni? E vi dicevo, molti non conoscono le origini di questo personaggio. Per esempio, nel numero 47 che è uscito, che è uscito ieri, troviamo un personaggio, andiamo se adesso io qua lo ritrovo. Eccolo qui. Un personaggio che si chiama Marchini. Lo stesso Roberto, che ha letto il fumetto, il numero 47, non può sapere minimamente chi è Marchini. Perché qui, quando viene nominato, c'è un richiamo in cui si dice, vedi, le storie del morto numero uno e numero due, ma queste, ecco qua, personaggio di Marchini, queste sono storie che sono veramente difficili da trovare. E poi, ragazzi, tra l'altro, vi devo dire che un mio amico di Milano mi ha raccontato che alcuni numeri, se non sbaglio sono intorno a otto numeri, sono assolutamente introvabili. Se voi andate nel sito della Minir, nella Minir Edizioni, trovate molti numeri, ma alcuni non ci sono. Non sono più disponibili. Perché mi raccontava questo mio amico, che ha un negozio di fumetti dalle parti di Milano, che, per sbaglio, questi numeri dovevano ritornare, dopo che c'era stato il reso dall'edicolo, dovevano ritornare alla cassa editrice, per sbaglio, sono stati mandati al macero. Quindi tutte le copie sono state distrutte. Quindi mi rendo conto che, effettivamente, almeno otto numeri sono perlomeno introvabili. Chi ce li ha, perlomeno, io ce li ho, io me li tengo stretti, perché fra qualche anno verranno moltissimo, ma io non ho mai venduto un fumetto in vita mia, né manco un libro. Tutto ciò che acquisto io tengo gelosamente. Fra qualche anno varranno veramente qualcosa. Già su internet, se voi provate su eBay a cercare questi numeri, vedrete che i prezzi sono esorbitanti. Io una piccola ricerca l'avevo fatta qualche tempo fa ed erano addirittura venduti al triplo, al quadruplo. Quindi, ragazzi, dei numeri che sono difficilmente leggibili. Allora, io cosa ho pensato? Perché non recupero, faccio magari una recensione in cui parlo dei numeri passati, potrebbe risultare una cosa interessante magari per chi sta seguendo in questo momento un edicolo è il morto. Sapere un po' chi è questo Marchini, e ve lo racconto io nella prima storia chi è, sapere anche com'è nata l'uniforme del morto, può essere una cosa secondo me simpatica. Poi, io questi numeri li ho già letti, li rileggo volentieri, perché naturalmente non mi posso ricordare numero per numero quello che è successo. Li rileggo volentieri e vi faccio le recensioni. Ecco, finito tutto questo tipo di premesse, partiamo dal numero 1, che è chiamata la clinica delle menti perdute. Ragazzi, i disegni, come dire, sono molto semplici, quindi siamo proprio alle prime armi, però vi voglio leggere l'introduzione perché secondo me è molto bella. Non so chi sono, né chi ero o chi sono stato. So solo che da tempo sono morto. Da troppo tempo giaccio in questo triste luogo dove il silenzio viene continuamente rotto da singhiozzi e pianti, da sussurri, grida e risate isteriche. Siamo qui nel bel mezzo della clinica psichiatrica Rose di Campo, come potete ben vedere qui da questo disegno. E poi c'è una frase tratta da, perché mi piacciono a me ritrovare in questi fumetti, nei fumetti che ciò che mi piace è sempre trovare qualche citazione, qualche film, i volti. Per esempio, ragazzi, ve ne parlerò poi in seguito, ma i volti che sono, con cui vengono rappresentati questi personaggi, sono volti presi dalla nostra realtà quotidiana, per esempio. Però poi ve ne parlo magari in avanti. Mi sembra una cosa veramente innovativa. Allora, qui c'è questa frase tratta dal film Le ali della libertà che cita, la paura ti rende prigioniero, la speranza può renderti libero. Ed è esattamente quello che fa il nostro Peg, il nostro personaggio principale, lo vediamo qui tristemente messo accanto a una finestra, e scopriamo che è rinchiuso in questa clinica psichiatrica da cinque anni. Non ricorda chi è, non sa chi è, non è un uomo senza passato, non sa perché si trova lì, ma ha un piano, ha voglia di evadere da questa situazione e cercare di indagare sul suo passato. Gli infermiere naturalmente passano ogni giorno e danno le loro pillole, lui nel bicchiorino con cui gliele porgono le mette in bocca, dopodiché, senza farsi vedere, le sputa e conserva queste pillole dove per essere tranquillanti, d'accordo? Viene notato dal signor Marchini, che è il personaggio che si ritrova adesso nel numero 47, ve lo faccio vedere, è un personaggio abbastanza simpatico, nota appunto che Peg conserva queste pillole e dice io ho visto tutto, sai che gli infermieri non vogliono, a lui subito lo zittisce e gli dice guarda vieni con me in un'altra stanza che questa sera evaderemo insieme. Il signor Marchini naturalmente accetta, naturalmente ci troviamo in una clinica psichiatrica in cui ci sono vari soggetti che soffrono di varie patologie, insomma il piano è molto semplice, prendere queste pillole che lui aveva messo da parte, mettere nella macchinetta del caffè e far addormentare un po' tutto il personale che c'è nella clinica e quindi fra infermieri e medici. La clinica è gestita da un dottore che devo dire che anche qua i nomi che vengono usati dai nostri autori sono molto simbatici che si chiama dottor Caini e devo dire che più Caino di così non può essere, ha un amante anche qui una dottoressa che si diverte a praticare l'elettroshock sui pazienti a scopo diciamo punitivo. L'elettroshock è stato fatto anche su Peg, perché poi vediamo a sapere anche questo qui inizialmente quando viene ricoverato, siamo nel bel mezzo di Halloween quindi il giorno è il 31 ottobre, il dottor Caini deve regarsi a una festa di Halloween perché è invitato, è un invito in una villa importante dove ci sono dei politici molto importanti e quindi va ad acquistare insomma a prendersi un vestito di carnevale, va in un negozio che è la ditta che rifornisce anche degli indumenti del vestiario alla clinica e invece di prendere il vestito che lui aveva ritirato nota in un'altra stanza appunto il vestito del morto e il proprietario l'aveva messo da parte perché in realtà era il vestito di carnevale del figlio, cioè io parlo di carnevale, poi in realtà la festa di Halloween d'accordo, quindi la festa di Halloween, l'aveva messo da parte per il figlio e lui lo nota e vuole assolutamente quel vestito e quindi glielo paga e prende questo vestito. Naturalmente il proprietario del negozio è un po' rammaricato, alla fine consente ma dice spero che questo vestito ti porti veramente male. Cosa che in realtà alla fine succede. Allora il dottor Caini ritorna in clinica, si vede con la sua assistente che anche lei si è preparata per la festa di Halloween con questo vestito sadomaso. Ragazzi di fatto vi devo dire che questo qua è un fumetto che all'inizio magari scene spinte non se ne vedevano, ma l'uso del linguaggio, l'uso anche di far vedere cose che normalmente negli altri fumetti vengono censurati, sul morto invece ce li abbiamo queste cose, d'accordo? Quindi questo qua mi fa... è un fumetto molto attirante alla realtà, d'accordo? A differenza magari dei comics americani o di Zagor o altri che magari viaggiano sull'onda della fantasia, questo è un fumetto che vive sull'attualità, d'accordo? Quindi avremo poi storie di mafia, storie di agaraggio, storie di rabbimento, insomma ci sarà un po' di tutto, d'accordo? Questo qui per anticiparvi. Quindi con questa naturalmente la dottoressa ha una relazione, si preparano per la festa a cui devono regarsi la sera. Nel frattempo, allora di cena, Peg e il signor Marchini si organizzano per... sono pronti per la fuga. Mano a mano i infermieri si addormentano, gli stessi dottori che fanno parte di questa clinica si addormentano, mettono qui, qui c'è la scena in cui sfruttando diciamo un diversivo che aveva creato il signor Marchini riesce ad andare in cucina e a mettere la polvere dentro la macchina del caffè di questi tranquillanti e alla fine praticamente si addormenteranno tutti. La dottoressa nel frattempo sta per reattuare un elettroshock sopra un paziente e quindi avremmo anche questa scena, questa scena diciamo, cruente perché per me, ragazzi, la scena dell'elettroshock in cui uno viene tenuto sul lettino e poi viene data una scarica elettrica è una cosa che è fra le più, diciamo, fra le più tremende che c'è, d'accordo? Tanto questa clinica psichiatrica sembra veramente una clinica, non si sa se sono più pazzi i ricoverati o sono più pazzi quelli là che la gestiscono perché sembra veramente una associazione a delinguere fra dottore e infermieri, insomma, sinceramente non se ne salva uno. Allora ragazzi, il dottor Caini si addormenta, il morto entra nella stanza, ancora non è il morto perché si chiama Peg, trova l'invito a cui si deve regare il dottor Caini la sera, indossa questo vestito e comincia ad indagare, anzi, lega il dottor Caini a testa in giù, con tutti questi nodi lo lascia appeso nell'armadio, la testa sotto, scena un po', anche questa qua, se non ci pensa, un po' forte trova la sua scheda, eccola qui, trova la sua scheda e comincia, diciamo, a cercare perché è il motivo per cui è stato ricoverato qui, in questa clinica tra l'altro, ragazzi, vi ho detto che negli anni si è migliorato questo fumetto inizialmente venivano fatti anche dei piccoli errori per esempio Marchini viene chiamato all'inizio, poi c'è un errore in cui viene chiamato Martini in questo caso, nella scheda della clinica psichiatrica, si vede che il direttore è il professor Gerdezio Caini ma nella porta della stanza c'è scritto direttore dottor Gaetano Caini quindi c'è questo, diciamo, questo errore io, per carità, massimo rispetto per chi confeziona il fumetto c'è un lavoro assolutamente bestiale, io non lo posso immaginare anzi, forse non lo posso immaginare il lavoro che ci sia da fare dietro un fumetto però devo dire che poi col tempo questi errori si sono visti sempre meno anche se ancora oggi qualche refuso, qualche errorino per esempio in questo qui ho trovato il nome del Diclofenac scritto Dicoflenac è sempre il trovare il pelo nell'uovo, d'accordo? io come ho detto ho deciso di portare questo fumetto non ne voglio assolutamente parlare male anzi, ne voglio parlare bene perché secondo me nel panorama italiano dove, che è dominato naturalmente da personaggi come Diabolica, Lanforte, vi dicendo un fumetto come Il Morto che si fa spazio ed è in vita da undici anni, secondo me merita tutto il rispetto e un plauso da parte di tutti noi ragazzi perché è un vero noir, è molto originale quindi non segue degli schemi già prestabiliti come possono essere quelli di Diabolica in cui si sa c'è il colpo che Diabolica deve fare ci sono il solito pentotal, ci sono le maschere d'accordo? segue dei canoni questo invece è un cane sciolto non si sa mai quello che succede Peg, il maggiore Peg, non si sa mai in quale avventura andrà a incappare per certi versi mi ricorda il personaggio Jack Ryan di Lee Child dei romanzi oppure addirittura John Rambo così sempre in giro senza meta d'accordo? qui queste sono associazioni che magari faccio io per farmi piacere anche il personaggio allora ragazzi lui parla scopre qualcosina dalla sua cartella scopre che c'è di mezzo un certo Zaxan che lo ha fatto in un certo senso mettere lì a curare in questa clinica psichiatrica l'assistente l'amante diciamo del dottor Caini lo scambia per lui che si è messo il vestito da morto gli dice che sta andando a fare questo elettroshock nel frattempo che sia il morto ormai lo chiama il morto che il dottor Marchini che il signor Marchini che si è messo anche lui l'abito diciamo quasi da divisa da ufficiale della marina con cui lui era arrivato quando è stato ricoverato in questa clinica per colpa di sua moglie che l'ha messo lì poi nei prossimi numeri ci sarà un continuo su questa storia vediamo che c'è un infermiere anche qui che sta abusando di una paziente allora queste vendette che loro fanno perché il morto è ragazzi è vendicativo se vede che c'è un'ingiustizia lui non si fa problemi a punire chi fa quell'ingiustizia si colpisce quindi questo infermiere che stava diciamo per abusare di questa ragazza lo legano lo legano nel letto dà in mano un paio di forbici alla ragazza e quindi voi potete immaginare di via a poco che cosa che cosa succede nel frattempo la dottoressa sta per attuare l'elettroshock su un paziente che si chiama Medi gli sta per dare la scarica maggiore di 5 il numero 5 che è la potenza maggiore arriva il morto insieme agli altri ricoverati alla clinica prendono la dottoressa la spogliano e la mettono al posto di Medi la legano e a turno con una dose di 2 quindi abbastanza breve a turno tutti i pazienti alla clinica daranno questa scarica alla dottoressa che non può fare a meno di subire questa diciamo questa vendetta tutti gli altri infermieri verranno messi raggruppati e poi viene buttato addosso tutta diciamo banane insomma tutto ciò che trovano lì i pazienti ricoverati lì che prendono dall'immondizia e buttano addosso tutte queste cose nel frattempo il morto chiama un taxi per evade per scappare diciamo da questa clinica c'è un solo infermiere che non beve caffè che è ancora sveglio si accorge di quello che sta succedendo anche qui il morto interviene devo dire che Peg cambia proprio di personalità fra quando non indossa la tuta e quando indossa la tuta diventa in un certo senso molto ironico quando mette la tuta del morto fa veramente delle battute molto simpatiche quindi colpisce mette KO anche questo infermiere buttando dello spirito addosso e poi addirittura dandogli fuoco quindi ragazzi vedete come cambia completamente anche la sua personalità quindi indossa questa tuta del morto gli dà fuoco e questo farà scoppiare un incendio nella clinica scoppia un incendio nella clinica naturalmente chiama anche i vigili del fuoco nel frattempo arriva il taxi e lui e Marchini vanno via e si recono appunto a questa festa in maschera nel frattempo alla clinica facciamo la conoscenza con due personaggi che poi ritroveremo anche nei prossimi numeri ancora oggi sono due personaggi presenti che sono il commissario Barry che vedete qui il suo assistente che si chiama Gambisi se non vado errato anche qui il nome non lo sto vedendo ma credo vi ricordate si chiama Gambisi personaggio che tra l'altro mi ricorda anche Mimì personaggio che c'è nel telefilm di Montalbano e che anche loro insomma indagheranno faranno le loro domande a tutti ricoverati al dottore alla dottoressa che sono stati che sono stati nel frattempo liberati nella situazione in cui si trovavano e si era a sapere che naturalmente uno è Vaso e Marchini l'altro è un tale Peg probabilmente lui che era lui quello vestito da morto ma nessuno sa chi era in realtà d'accordo quindi gli stessi Caglini e la dottoressa non rivelano praticamente chi è il morto e Marchini arrivano a questa festa con il biglietto di invito qui Marchini incontrerà un personaggio che è anche qui Nardi che poi ritroveremo anche qui nei prossimi fumetti e basta quindi qui si conclude con col morto che fa conoscenza con con una ragazza vestita in maschera anche lei e il prossimo ve lo racconterò nei numeri successivi tra l'altro qui alla fine ormai questo video è un video fiume hanno aggiunto per i ben pensanti o i mal pensanti in questo numero del morto non ci sono stati decessi solo 12 infermieri narcotizzati un primario legato a bondage con soli di nodi una dottoressa sadica ha subito un leggero elettroshock un infermiere stupratore è stato evirato un infermiere manesco ha subito ustione di terzo grado e via dicendo poi qui anche a scopo anche un buon burlesco tra gli operatori del fumetto nessuno si è ferito soltanto un inghiostrato vabbè non ve la leggo tutta comunque queste precisazioni poi non le troviamo più meno male direi perché se no sarebbe stata una cosa anche ripetitiva nei numeri successivi però è stata una cosa simpatica leggere anche questo qui in più come ho detto prima parla anche della simbologia del teschio negli altri numeri ci sarà sempre un piccolo raccontino finale ah no c'è anche in questo qui con quest'altro personaggio creato da Ruvo Giovacca i disegni di Rino Aiello sono delle storie molto brevi spesso neanche con le vignette solamente immagini sono delle storie carine che vengono messe credo a riempitivo delle ultime pagine però ragazzi non so se questa iniziativa di portarvi questa recensione del morto possa avere successo possa avere un riscontro positivo da parte vostra magari fra qualche anno in cui il morto magari io glielo auguro ha un espulà e quindi raggiunge livelli di vendite che lo porteranno da bimestrale lo porteranno a mensile via dicendo e verrà essere conosciutissimo magari queste recensioni che io faccio sui primi numeri anzi io dico le faccio tutte dal numero 1 al numero 47 ci vuol rambo di tempo naturalmente perché non è pensabile che io in breve tempo possa recuperare e farvi la recensione su tutti i 47 perché giustamente non è che tutti sono interessati anche a questo tipo di personaggio però vi prometto che nel tempo libero quando c'è un buco fra un'uscita e l'altra io vi aggiornerò vi continuerò a portare le recensioni sul morto ragazzi con questo io ho concluso se vi è piaciuto il video fiume mettete un like iscrivetevi al canale e noi ci vediamo attivate la campanellina per essere aggiornati se siete appassionati del morto o dei personaggi di cui vi parlo attivate la campanellina così vi arriverà una notifica sul cellulare noi ci vediamo al prossimo video con un'altra recensione scarsa un'altra recensione